Studio Cesaroni che attacca, palla appoggiata, Valentini para Vladescu Lo studio Cesaroni va a anticipare bene nella zona difensiva, portando Parasfera in avanti dove viene controllata dal numero 11, sulla fascia destra, occhio all'occasione, dentro Carcagnolo non ci arriva per un soppio, la Steaua batte un fallo laterale, appoggiata malissimo la palla allora Carcagnolo, miracolo di Vladescu, occhio allo studio Cesaroni, sempre in avanti ora da sinistra, la parata di Vladescu, la sfera che rimane lì, c'è il tocco però e allora calcio di rigore per lo studio Cesaroni, palla toccata con la mano sul dischetto, Valentini, Valentini, spiazza Vladescu, studio Cesaroni in vantaggio sono partiti fortissimo, la Steaua 2005 deve scuotersi, prova a farlo dando la palla a Gheana Gheana, Gheana in area, allarga il piattone, la piazza, Marian Gheana, 1-1 Steaua forte del pari conquistato, rimba anche nella ripresa, sempre con Gheana che apre vorrebbe la palla di ritorno che invece esce fuori lo studio Cesaroni alla rimessa laterale, è lunghissima, dall'altra parte, ferro, fuori di un nulla Steaua in attacco dall'altra parte, la partita è bellissima, c'è un rimpallo a favorire fuori e Gheani, polo pieno di Gheani lo studio Cesaroni sul ribaltamento di fronte con ferro che appoggia lì la sfera al proprio compagno che può allargare, per Bastianini, vediamo se rientra, lo fa Bastianini il destro, fuori non di molto lo studio Cesaroni con una rimessa laterale dalla destra, è ben battuta, Bastianini la fa passare e ferro, trova il gol del 3-1 per i suoi, ha segnato il numero 11, ferro lo Steaua 2005, ben lungi però dall'arrendersi, prova ad entrare in area di rigore la palla dentro, Gheana ha respinto, torna sulla sfera il numero 10 occhio ancora, Marian Gheana non viene marcato dentro l'area, lo lasciano solo, 2-3 credono nella rimonta i giallo-blu che attaccano in massa sempre il numero 10 Gheana, la sfera che rimpalla, rinviata malissima e allora lungo in sforbiciata il pari della Steaua 2005, 3-3 al Ciriaci lancio in avanti della Steaua 2005 che prova a controllare con Giai ma arriva il triplice fischio del direttore di gara finisce 3-3, una partita stupenda al Ciriaci tra Steaua 2005 e studio Cesaroni con la rimonta dei padroni di casa gran discussioni nel finale così iniziamo noi tutte le partite dopo che prendiamo 2-3 gol iniziamo a giocare non lo so, dobbiamo cambiare qualche cosa, spogliatorio perché così non possiamo andare avanti